La magia della Notte delle Stelle davanti a un calice di vini più pregiati del territorio. È tutto pronto, infatti, per la seconda edizione di Calici sotto le stelle, la manifestazione organizzata dall'associazione Glocal con il patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina che si svolgerà il 10 agosto a Punta Secca. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa al Comune di Santa Croce alla presenza del sindaco Peppe Di Martino. L'invito è ovviamente quello di assaggiare gli ottimi vini che saranno proposti ma di farlo in maniera responsabile. 12 le cantine presenti della provincia di Ragusa e non solo, per una notte che si annuncia tutta da scoprire. Sì, una manifestazione che è stata realizzata l'anno scorso per la prima edizione che ha risposto molto successo e quindi quest'anno abbiamo voluto che si riorganizzasse in collaborazione con la Glocal, che è l'associazione che se ne occupa e con il patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina, una serata molto suggestiva che vede la presenza di tante cantine del nostro territorio, non proprio di Santa Croce ma comunque della nostra provincia e non solo, è che quella sera, la sera della notte di San Lorenzo vedrà il palcoscenico del nostro borgo di Punta Secca con le cantine e la possibilità di fare delle dimostrazioni lungo il centro di Punta Secca. Una serata davvero molto apprezzata che dà la possibilità di conoscere anche dei prodotti locali delle nostre vicinanze, del nostro territorio e quindi che siamo sicuri quest'anno verrà ancora di più accolta e apprezzata.